Ciao amici! Ciao amicioni! Ciao amicioni! Ben bene, venuti al nuovo video di Mastro Orlando! Oggi faremo le vene di Babbo Natale con i ruoli riccati di Enrica e riciclati! Eccolo qui! Coloriamolo con la tempera marrone e ruoto tutto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sto mettendo gli occhietti dell'Arenna. Qui? Sì! Qui! E uno! E uno qui! E uno qui! Bellissimo! C'è un'Arenna! Il naso! Sì! Un po' di pollina! Un bel naso grande! Che è giallo! Giallo! Ok! E uno qui! E uno qui! E uno qui! Le po' di po' di pollina! cope! E uno qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seguiteci nel prossimo video se volete conoscere di più da vicino le renne di Babbo Natale. Ciao, ciao, tanti bacioni amici. Ciao, ciao. Ciao, ciao.